Individuato il responsabile del danneggiamento al portone della chiesa di Santa Chiara, potranno sottoporsi al tampone coloro che si rivolgono alla Caritas. Nuove cariche per i sardisti della provincia di Oristano. Stabilità in vista per i lavoratori del consorzio di bonifica. Benvenuti. Sono 445 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Sardegna. Si registrano 4 decessi, due uomini e una donna residenti nella città metropolitana di Cagliari, rispettivamente di 79, 70 e 87 anni e una donna di 94 anni residente nella provincia del sud Sardegna. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 249 pazienti guariti. Sul territorio di Oristano i nuovi casi sono 26, portando in totale a 1.809. A Oristano invece città si registrano due casi di positività e due guarigioni. Cambiamo argomento. Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver danneggiato il portone d'ingresso della chiesa di Santa Chiara di Oristano. Vediamo. È stato individuato dalla Polizia di Stato il responsabile del danneggiamento del portone di una delle chiese più importanti di Oristano. La tentatività di monitoraggio nelle vie del centro cittadino è stata disposta dal questore di Oristano, Giusi Stellino, a seguito di alcuni esposti presentati da diversi residenti. Gli agenti hanno proceduto all'identificazione di alcuni giovani, tutti minorenni, soliti stazionare come punto d'incontro presso il sagrato della chiesa adiacente al convento delle sole di clausura di Santa Chiara. L'attività, svolta dal personale della locale squadra mobile, ha consentito il deferimento in stato di libertà di uno di essi, sedicenne, autore del reato di danneggiamento aggravato del portone d'ingresso della chiesa di Santa Chiara, al quale è stata asportata la targa di plessiglass indicante i giorni e i orari delle funzioni religiose. Successivamente la meresima è stata prelevata da un secondo giovane e lanciata lontano. Gli atti relativi all'identificazione dei ragazzi sono stati inviati alla Procura della Repubblica del Tribunale dei Minorenni per i provvedimenti del caso. Una notizia giunta in relazione a pochi istanti. I referenti del Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano hanno avuto un incontro con l'assessore alla sanità Mario Niedu, il commissario dell'Ares Massimo Temussi e il commissario dell'Ares di Oristano Maria Valentina Marras. L'incontro che si è svolto oggi, terminato da poco, aveva il fine di presentare e discutere varie soluzioni per liberare definitivamente il pronto soccorso dell'ospedale San Martino dai pazienti Covid e renderlo definitivamente agibile per le altre patologie. Nell'edizione del Tg Oristanese di domani vi illustreremo i risultati ottenuti nell'incontro. Cambiamo ancora argomento. La piattaforma progettata per il tracciamento dei contagi è pronta ma la copertura totale nei comuni è prevista solo entro il 15 dicembre. Vediamo il nostro servizio. La sua attivazione avverrà dunque per zone omogenee. A quanto pare la piattaforma online per i comuni sardi progettata per il tracciamento dei contagi è pronta ma la copertura totale nei 377 centri della Sardegna è prevista solo entro il 15 dicembre. Il sistema è già stato testato e la prova ha dato risultati positivi. Nel portale saranno caricati i dati dei soggetti risultati positivi ai test, dei cittadini in isolamento domiciliare e dei tamponi effettuati. Per entrare nel sistema i primi cittadini dovranno avere le credenziali per conoscere in tempo reale la situazione nel comune che amministrano. Coloro che si rivolgono alla Caritas Diocesana di Oristano potranno sottoporsi ai tamponi. Vediamo. La pandemia non è in grado di fermare la solidarietà. Contrasta la diffusione del nemico invisibile. Vi è anche questo tra le proposte promosse dalla Caritas Diocesana di Oristano per le fasce più deboli della società. Le persone che si rivolgono alla Caritas potranno dunque sottoporsi al test rapido antigenico. Si tratta di una iniziativa di solidarietà adattata alle necessità contingenti. I test verranno offerti gratuitamente alle persone che daranno un libero consenso per limitare il più possibile i rischi della diffusione del contagio. Saranno effettuati da personale medico che ha aderito volontariamente all'iniziativa. I primi kit di tamponi sono stati acquistati dalla Caritas e alcuni verranno donati dal Rotary Club di Oristano. Queste le dichiarazioni rilasciate alla stampa dalla direttrice Giovanna Lai. I sardisti della provincia di Oristano rinnovano le cariche. Sentiamo il servizio di Paolo De Zogos. Il vento sardista è in ripresa con la voglia del partito e dei militanti di ritrovare una connotazione propria aderente a quelli che sono stati gli ideali identitari che da sempre hanno animato il percorso dei quattro mori. Poco importa se da sinistra è giunta la critica delle nuove alleanze che i sardisti hanno stabilito con partiti e movimenti come la Lega, una formula indovinata che sta pagando in termini di voti e consensi. I militanti, soprattutto quelli di lungo corso, ricordano il passato segnato da una presunta purezza data dalle alleanze elettorali a sinistra che per i quattro mori non sono state mai appaganti in termini di ritorni elettorali. Ora i sardisti sono in piena campagna congressuale e a Doristano si è celebrato a distanza quello provinciale con il partito irrobustito da una notita rappresentanza nel Consiglio Comunale del Capoluogo e il cresciuto numero di iscritti e di sezioni organizzate. Il congresso preseduto dal sindaco di Morgongiori, Renzo Iba, ha rieletto Andrea Zucca, segretario provinciale e per il giovane funzionario di Ara si tratta di una positiva riconferma. Del nuovo coordinamento provinciale fanno parte Giancarlo Ruh, Stefano Medde, Fisio Trincas, già assessore alla provincia il primo, sindaco di Cabras il secondo, ed inoltre Renzo Iba, Filippo Becciu, Gianmichele Guiso, Simone Prevete, segretario di Oristano, Piero Franceschi, Irene Erdas, Orlando Pinna e Antonello Piras. Giovanni Magia presiderà la commissione di garanzia. Ai lavori è intervenuto il dirigente del partito Andrea Cocco, capo di gabinetto dell'assessore regionale all'urbanistica che ha portato il saluto del segretario nazionale e presidente della regione Cristian Solinas. A completamento del servizio che abbiamo appena sentito, con una nota di dissenso, è arrivata in redazione pochi minuti fa. I sardisti della sezione oristanese non riconoscono però il risultato delle elezioni interne. Vi leggiamo la nota integrale. Il partito sardo d'azione si rivela ancora una volta, dopo quasi un secolo di vita, un grande partito rispettoso della democrazia, della correttezza, dell'onestà e della trasparenza. È stato rilevato un malfunzionamento della segreteria provinciale di Oristano e giustamente, tempestivamente, si è intervenuti con l'obiettivo di far rispettare il regolamento e lo statuto. Si attende con fiducia all'ufficialità del nuovo tesseramento e lo svolgimento di un nuovo congresso, regolarmente convocato. Il comunicato è firmato dagli appartenenti alla sezione Simo Mossa di Oristano. Maggiori chiarimenti verranno forniti nelle edizioni del Tg oristanese di domani. Voltiamo pagina. Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato un ordine del giorno teso alla stabilizzazione dei precari dei consorsi di bonifica. Sentiamo. Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle volto alla stabilizzazione dei lavoratori precari dei consorsi di bonifica. Nel dettaglio sono state approvate due linee di finanziamento. La prima, che stanzia i fondi indispensabili ad appianare i debiti contratti da Enas nei confronti dei consorsi per quanto concerne il sollevamento dell'acqua. La seconda, che prevede invece lo stanziamento di 2 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 4 milioni di euro già assegnati per la stabilizzazione dei precari. Quello compiuto ieri, primo dicembre, è un importante passo in avanti, per cui esprimiamo grande soddisfazione. Mi prevede però svolto lineare il fatto che ancora oggi l'effettiva stabilizzazione di questi lavoratori venga messa a rischio dall'assenza di un riferimento normativo ad hoc, ha affermato il Consiglio regionale Alessandro Solinas. Le ragioni dei lavoratori sono state riconosciute in diverse occasioni da parte dei tribunali per cui si sta delineando una giurisprudenza ormai costante. Quindi, consentendo le stabilizzazioni, si permetterà ai consorsi di tutelarsi da eventuali ulteriori danni causati dalla soccombenza nei casi giudiziari. Sono fermi i lavori per la costruzione del nuovo Museo di Cabras. Cantiere deserto con un lieve cenno di lavori avviati per costruire la nuova ala del Museo di Cabras destinata ad ospitare la statuaria rinvenuta a Montebrama. Il Comune dovrà chiarire questo stop dovuto probabilmente al fatto che a Cabras si resta a rischio Covid per il ripetersi di casi di infezione che vengono segnalati nonostante le guarigioni che si sono registrate. A Cabras, pure il Museo con l'area archeologica di Tarros, hanno dovuto chiudere i battenti dal 6 novembre al 3 dicembre a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre scorso. Ora si attende il nuovo provvedimento per capire se si andrà verso la riapertura oppure se si perpetua l'attuale situazione. Personali a casa, in attesa di tempi migliori, con la fortuna di avere il sostegno della legge regionale che attraverso l'assessorato alla cultura e i comuni finanzi alle gestioni dei siti museali e archeologici, mentre nella penisola si deve ricorrere all'incerta erogazione della cassa integrazione. Un aiuto significativo al settore vitivinicolo segnato dall'emergenza coronavirus al fine di evitare il licenziamento del personale impiegato nel comparto e quindi sostenere le aziende in un periodo di crollo del mercato, dovuto all'eccesso di prodotto per la nata 2020. Per questo motivo la Regione, con un finanziamento di un milione di euro approvato con delibera di giunta, di concerto con l'assessorato all'agricoltura, sostiene il comparto vitivinicolo che in Sardegna rappresenta un'eccellenza nel mondo. Lo ha affermato l'assessore regionale del lavoro Alessandra Zedda, che ha commentato la pubblicazione dell'avviso a Sportello per la concessione di aiuti, finalizzati al sostegno economico di micro, piccole e medie imprese del settore vitivinicolo, quali cantine e vigne. Ed ora ci spostiamo a Bosa, dove salgono alle stelle i toni nel Consiglio Comunale. Vediamo. E' ancora il Covid che in un modo o nell'altro occupa le discussioni anche nel Consiglio Comunale. E' stato così nell'ultima scisa a Bosa, dove il male del secolo ha impegnato il dibattito. In apertura il sindaco Casullo ha voluto commemorare la figura dell'ex sindaco di Montresta, Antonio Zedda, scomparso proprio a causa dell'epidemia, che è anche stato presidente dell'Unione dei Comuni della Planargia, co-protagonista di tante lotte e rivendicazioni per il territorio, oltretutto cittadino di Bosa. Una interrogazione del consigliere di minoranza Salvatore Sanna ha introdotto il discorso sullo stato attuale dell'ospedale, nel quale sono stati ricavati 12 posti per malati di Covid con la prospettiva di arrivare a 40 e con i conseguenti spostamenti all'interno, di reparti e personale. Il sindaco Casullo, dopo aver sottolineato che, considerata la situazione, non ci si può porre a una necessità dettata dall'urgenza, ha riferito di aver ricevuto ampie assicurazioni del ritorno allo stato normale una volta cessata l'epidemia. Il clima si è riscaldato al momento della discussione dei provvedimenti in aiuto ai comparti commercio, turismo, artigianato e partite IVA colpiti economicamente dalla pandemia. L'amministrazione ha pensato di venire incontro a queste categorie con una riduzione dei tributi locali. La misura è stata ritenuta insufficiente dal capogruppo di minoranza Rosali H, che invece ha chiesto misure straordinarie. Il sindaco a sua volta ha risposto che la cosa non è possibile perché non sono mai pervenute in comune segnalazioni mediche sullo stato di quarantena o isolamento dei soggetti in discussione. L'H sosteneva invece che il provvedimento è stato preso da altri comuni della Sardegna e che la maggioranza non ascolta le proposte provenienti dalla minoranza. Da qui un altro intervento piccato del sindaco che ha riferito che il comune di Bosa ha prorogato al 21 gennaio il pagamento delle concessioni per il suolo pubblico e una riduzione del 25% dei lattari, proprio per venire incontro alle categorie in discussione. Non è la prima volta che i toni tra l'H e il sindaco Casula salgono di tono, che nella scorsa amministrazione sedevano a fianco. Ci vorranno ancora tre o quattro anni prima di vedere il completamento del ponte di Marcedì. Sentiamo. Opera complessa, quella della messa in sicurezza e adeguamento del ponte che attraversa la valle da pesca di Marcedì collegando le due sponde nei territori di Terralba e Arbus, nella località di Sant'Antonio di Sant'Adi. E ci vorranno anni, minimo tre o quattro, prima di vedere realizzato l'intervento e quindi rendere agevole e sicuro l'attraversamento di un ponte che si snoda per oltre 800 metri. Un percorso stretto, assenso unico e un marciapiede costituiscono l'asse attuale del percorso stradale e nel progetto di intervento redatto dal Comune di Terralba ne è previsto l'allargamento e la regolamentazione del traffico nei due sensi di marcia attraverso la installazione di un impianto semaforico. Dal bilancio della Regione è previsto un finanziamento di 5 milioni di euro con l'avvio dei lavori previsti per il prossimo anno e loro conclusioni in un triennio. Il sindaco di Terralba, Sandro Pili, ha espresso soddisfazione per l'impegno finanziario assunto dall'assessore al bilancio Giuseppe Fasolino e promette di seguire passo passo l'iter delle procedure che riguardano l'avvio e la realizzazione dell'opera. Il Comune di Marrubiu ha completato la certificazione sull'efficienza dei defibrillatori. Vediamo il servizio. Marrubiu, paese sempre più cardioprotetto. Il Comune ha infatti ultimato la certificazione sull'efficienza dei defibrillatori che dal 2017 accompagnano l'attività nelle sedi delle società sportive. Sono sei dispositivi posti a dimora, due nelle palestre di Via Tirso e Pala Granata, uno nel campo d'atletica, uno in uso all'Ossidiana Bike e uno all'Hauser. Un altro è stato consegnato personalmente dall'assessore allo sport alle due società di calcio, l'Atletico Marrubiu e il Sant'Anna. Per l'uso degli apparecchi sono state formate più di 30 persone. La sicurezza per le associazioni è alla base di ogni attività sportiva. Come avere gli stabili agibili è importante avere defibrillatori efficienti, ha affermato l'assessore allo sport Antonio Urracci. Avere dotato gli stabili di questo strumento fa sì che questo faccia il paio con la sistemazione delle palestre avvenuto in questi anni. Non ultimo il finanziamento ottenuto per il rifacimento della palestra di Via Gramsci, ha aggiunto il primo cittadino di Marrubiu, Andrea Santucci. Ora attendiamo il finanziamento per migliorare il campo da calcio, col fondo in sintetico e il rifacimento di spogliatoi. Vogliamo inoltre ottimizzare l'illuminazione del campo da tennis dopo aver rifatto quella del campo da calcio. Altri due defibrillatori saranno definitivamente sistemati all'aperto, proprio in Via Nenni, dove viene il nuovo campo da basket e l'altro in piazza Ansiccora, sede di tanti spettacoli. Era questa l'ultima notizia del nostro appuntamento con informazione, ora vi lascio con le notizie nazionali. Grazie per essere stati con noi. Grazie a tutti.